oh brocodio lucio ti sta prendo per il culo ma ma avevo già capito che mi stava prendendo per il culo volevo vedere fino a dove arrivava non è che il clive di rivoluzione così elenia visto che tu non stai giocando farai da test ah vero devo entrare qua dentro ma come siamo le squadre? insomma così? adesso viene chicco e facciamo un trepittore no lucio così è la squadra taric bot vai togli taric bot no ma taric bot fida vabbè io e te contro loro non lo so ok buono buono così loro fiddano e noi prendiamo le kill su gremes guarda che ho messo intermedio non le prendi le kill no 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 stiamo in 5 perchè non si fa la normal start up no stiamo in 5 perchè non si fa la normal stiamo aspettando negretto e poletto start up uno di voi deve è decisamente jungle un top lane ed un mid lane aspetta ma che è normal no 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 via 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 che è sta messa mi pareva un ara allora tu vai in il team di romperi e io mi prendo un altro diattritto no 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 non vado a nessuna parte Vieni, date solo che aspettavo, è aperto tempo con quei due finiscono. Ok, grazie. Alla fine basta stare tutti in mid. Siete da quattro, alla fine è partita un due vittura. Non hai visto? Vedi, sono sempre io quello di troppo nella nuova dimensione. Io vado, ciao. Ma dov'hai? No, Ilenia, l'ho detto quello che ha detto Ilenia. Io vado, ciao. Ah ma stiamo bannando addirittura. Siamo arrivati a questo punto. Si pensa, banniamo tre cempe e siamo in due. Cioè i guantoni? Ah ma piccinini, vatti che ti squavra. Ma che stai facendo? Dai pazzesco. E poi dai, Bruno vanno degli evocatori classificata a Gnar. Per quanto? Ma io te l'ho detto, Bruno? Bruno è malato. Ok. No, allora guarda. Tutto quello che tu hai visto fino a questo momento era la selva della cilaga. Non era là sul tuo. Ha ripreso adesso, Bruno è solo tu. Ma è malato comunque, la tua volta ieri, quando tu non c'eri, sono andato a controllare. Ma in dodici ore aveva fatto quattordici game. E su quattordici game aveva persi dieci. Non so come aiutarti. E arriva un momento... E avrà... Quindi devi prendere contro e devi fermarti. Beh ma magari avessi fatto il suo stato d'animo di Bruno. Cazzo, per due dieci volte non si ferma. Io già perdo una poca. Ho capito ma è arrivato, ha giocato qualcosa come 890 hack e ancora god 2. Ma no, te... Cosa ti ho detto? Non le sta giocando tutte di solo queue. La facendo anche le altre. 890 hack e solo queue. Ok. Per ultimamente non sta facendo solo solo queue. Sta facendo pure la selva, lei. No, non ho metto in dubbio ma si god 2 da 890. Ma eh... Figlio mio nella vita c'è chi ci riesce, c'è chi ci riesce. Alla fine... Ma siamo 1 vs 1 o tutti in mid? No, 1 vs 1. Ma dove siete? In quella merda di Londra degli Avocatori? Si. Luca ma cos'hai fatto? Questa è un saccali in modo ripidante. Ho detto che mi sono innamorato di una barista. Ti va buono porco due bavette ho di nuovo usato... Sì, ma secondo me Ileni è un problema. Quando io ho detto io che farei Karma e tu stavi per dire un giudizio, le hai detto tu devi essere zizio, eh? Cioè ma è un gioco, non è che la vita vera. Vero che è bello fizzo suo? Beh, però Luto, se fosse la vita vera, una botta ce la darei ancora io. Ma cazzo, ma Karma è una delle donne più belle di questo gioco. Ma che stai dici? Cioè tu e prende una letra... Una letra... Ma non è negra, ma... Cioè, è una letra che comprende. Ari, casa, Miss Fortune... Ma allora, io ho sempre avuto un bacino per il lente... Cioè io preferisco Rick Sire. E per i paesi... Madonna, c'hai i suoi gusti, scusa, ma permetti? Per me Karma è una bella donna, io la farei Karma. Ma è una puttana lì. E' negra. Cioè, come per dirmi farei Nidali? No, che schifo. E' Nidali è un'altra bella donna. Obiettivamente è Nidali. E' nero, è nero, ragazzi. Ma sono nere, che schifo, le neri. Certo, ti vedo. Ragazzi, ragazzi, scusate. Poi, come cazzo si chiama quella supermodella... Ragazzi, ho sbagliato, ho messo il flash sulla T. Luca. Porco Luca, come si chiama quella supermodella, quella nera? E dai rubiti sull'elf. Cosa è Lucio? Come si chiama la supermodella nera? Quella che l'hanno messa... Naomi Campbell. Naomi Campbell. Poi, tipo come Naomi Campbell, Rihanna... Ma non è nero. Ma neanche Karma è nera a quel punto. Si che Karma è nera. No, no, Karma è nerissima. Ma non è nero. Ma non è nera, Karma è mulatto. Non è nero. Ma c'è sicuro... Karma è... Karma è tipo quattro... Ma Lucio è nero? Ecco il nero. Karma è tipo quattro colorazioni di Suad. Karma è filippina. Alla colorazione dei filippini. Esatto. Ehi, Karma è nero. Ci sono state con una filippina, non è così. Suad è filippino. Cioè, cazzo, parla pure Jacopo che è stato con una filippina, cazzo! Ma non era nera! Ma... Ero piano! Ma Karma non è nera! Non è nera! Ragazzi, ma Karma non è nera, eh! È mulata! È mulata! È mulata! È nero! Quale è lane dovete vedere quello che c'è? Quale è lane? Io so che c'è. Ehi. È top e botta a quanto male. Comunque... Paura dei trovi di chi mi trovo contro. Tu sei l'antentesi fatta a persona. Non so come stai giocando nessuno. Ma sei stato con una filippina che per quanto possa essere filippina ha i tratti somatici di una dell'Oriente. E mai potrà essere proprio bianca 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 bianca. Lucio... Lucio... Tu sei bianca 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 bianca. Nero ti intende al nero. Cioè, beh, ma Karma è negra e fa schifo. Non fa schifo, eh! Non me la donna! Io me la farei. E anche molti di voi qui dovrebbero essere. Ecco. Dirella gritta, tu? No, dai, ma io e Luca. Ma che due coglioni! Io volevo beccarmi Federica. Eh, vogliamo parlare di questa cosa. Bello, la Dini mi teme. Certo! C'ho 120 di ping però, Dini. Va bene, allora andrò più sicuro, ragazzi. C'è un bel ping suodo questo. Cazzo! Ma ancora con la partita sta da giocando? No, hai perso! No, hai perso! Dai, però, Dini! Non inizierla subito! Mi ingaggia! Che palle! Voglio far andare tranquillo! Anche tu hai mandato Ladini contro di lui! Ma devi contro di lui, ma era più safe Ladini! Non ho capito un cazzo come ho detto. Dio, io ho detto, io ho detto, io ho detto, botte top! Ah, non la capito! Ma io ho capito, botte top! Beh, anche tu! È un pizzico di un sacco! Eh, su, è un end! È tipo un muro lì davanti che dobbiamo! Mi fa 700 danni puri mangiandoni! Rompicoglioni che sei con quella cazza di Morgane! Ti fa 700 danni puri! 1.73 1.73 1.73 1.73 2.3 Secondo me sei contro Iber! Giusto? Sono contro? Iber! Esatto! Con... Nuova passiva di... Praticamente con lui mi tiene lontano un chilometro! Se ti tira tre pizze il terzo pizzone sono 1.000 danni! Eh, mi ha 1.000 danni puri esatto! E chi è il terzo pizzone che terebbe? Iber! Iber! Jacopo prende il vantaggio! Dovrebbe essere un monstro chiamato Vayne, che io ho chiamato Iber, ma che in realtà nella partita di Paolo si chiama Giorg! Quindi a 1.000 non ci arriva! Tu coglio! Ma non finisci il mana rotto in culo! Vai vai vai! Eh Dini? Ti è piaciuta questa? Palle! Ma scusa, ma io ho pensato... In quanto la modalità dove cittolo puoi piccare... E' ovvio, ma deve dire... E' lo stesso campione! Noi lo so! Non mi ricordo ora come si chiama, no? Ha flashato! Ha flashato! Ya? Eh, dimmi! La modalità quella dove puoi piccare... 5 campioni tutti uguali! No! 1 for all! Eh, la 1 for all! Perfetto! Ma se lo picca cinque chogart e si concentra tipo su dei bersagli singoli e gli fa R! 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 Non lo uccide! Non c'è Luca? Ah no ecco... Rimangono tipo 5 chogart contro 3 contro 4 e si rifanno per le zanze! che cazzo che sei io c'ho Luca che mi sta tartassando il cazzo con quella cazzo di W guardalo guardalo però non ci ti vai a fare il baro in 5 secondi quando tipo 3.000 HP di te usa R R, R, R ti sfido dove sei? è qua dove sei? è un vantaggio è un piccolo gerano no beh ho capito che forse la Dini eh sicuramente lo sa posto dalle P ragazzi come sono le squadre? Jacopo Dini contro Chico? no Jacopo Chico e io e Luca ah ok ma io ho dato un po' di pace e amore a Dini perché grazie grazie ma poi voglio capire chi ha piccato di arte e la Dini è grassiva da Dio andiamo su Ad andiamo su Ad veloce su Ad veloce su Ad no dai sto modetto di Marmelt ok e poi porco Dio d'ho perso un po' di Dio di Expo che te lo aspetta di mirata oh raga 5 minuti arrivo 5 minuti 5 minuti arrivo 5 minuti 5 minuti 5 minuti arrivo no 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 perché ha troppe cose e non ho avuto voglia di raggiungere le stupi ovviamente io con questa vita non posso uccidere organa è proprio vietato ho bisogno di google translate perchè la gente tedesca non parla lingua non parla tedesco il tedesco non è una lingua eh una merda il tedesco ma figlio di puttana oh simpatico si ci sto interessante interessante lo reporterò mia mia e gli hanno scritto stai calmo apprezzo che uno gli abbia scritto stai calmo l'ho preso alla sprovvista stavolta non ce l'aspettavo lei sul minio è stata da infare ho detto non sa come si gioca non sa cosa fa Chiana quindi va un attimino in difficoltà adesso arriva Luca di qua in proporzione sono morta una volta con te ma è perchè sono più safe sono così bastardo come Jacopo Jacopo è un demonio adesso però vedo che Jacopo è da solo in lane quindi ho paura che quello la sia venuto da me da solo no 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 è blackboard ma infatti capito oggi cosa ti dici? ma la lo so io la diri ti ho un aiuto eh ma mi bullizzavi a me bastardo che dovevo fare con Morgana sono un bullito di persona ma anche adesso è abbastanza non ci voglio ah Iadini la smetti? no sei sicura? mmm stai attento Adini allora sono sicura che non devo stare vicino ai muri ti ci lancio i vicini muri non mi lancio i vicini muri non mi lancio i vicini muri oh attaccate la torre tronzi eh non vale con lì il bastardo Jacopo riesci a sentirmi? si? quando Salvatore ha detto no mi scazza starci su TS tra nove voci di merda e una solo bella si riferisce a me però ma non so se siamo dieci persone oh mio dio si eh non ho ancora abbastanza danni ma che c'è in piedi? un sacco di gel un sacco di gel oh se hai fatto un altro aram nell'attesa io ci sono ma che dia dalle quanto arrivo perdi oh Odini con qualcosa che rallenta aspetta o Odini o Udini no ma lo sono capito è una umana è una mignone 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 mi uccidono vai però qua si ucciderlo è verità brava è che è una umana quel quasi non è bastato Luca ti dico solo che a me il mouse si sta spegnendo di condizioni tutto dimmi l'agra dobbiamo giocare aram si è una vita ma come in vita com'altro cosa c'è il tp per tonnare? ma te è infame te ne sei andato hai saltato mi faccia cambiare ma noi ci andiamo a giocare a rambastardi ma 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 siete niente l'anilena me l'ha cambiata me l'ha cambiata me l'ha cambiata mi l'ha niente giocata io ci si me l'ha cambiata oddio prendete il suo gioco è una gacatulos no no non mi piace più il loy perché non ti piace più il loy scusa ma schifo io ci provo ma sei da merda ok che manca l'uomo vada carta no vada carta vai carta sai che c'è la mia ma io volevo dirlo ma io ma che sono qua c'è la punta viene stava venendo qua rompermi coglioni a me oh ma no sta pushando le torri non capisco oh no ma c'è l'attosio c'è la punta vedi c'è arrivato anche l'attosio eh lo so abbiamo beniziato però salvo nooo non è abbastanza lontani ma vai cacare ho sbagliato l'ultimo quando hai detto che mi stiamo finendo è una personalizzata vabbè dai luciano va te la fai luciano te no io me la faccio una partita cosa? me la faccio l'occhio ti fai la personalizzata? no 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 ma perché io i ladini come sfondo alle torre ok vabbè facciamo stare noo no certo tu non è che però ti sei piaci' ma poi è letali ti quella cosa te hai detto che sei i cartes poverino sta schifosa ma che devo fare scusa cos'è che hai detto scusami io cosa ho detto eh te 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 va atteni di nì che sto arrivando no scusa tu hai il paladino vita brutto bastardo mamma mia c'è ma sono due famiglia che ne so comunque è lucar ma si ma luca lo so che tra yarda è un infamotto luca tra yarda perchè lo sa che sennò ti ammazza tra un po' ma perchè è jacopo che prende il stack della torre mid e beh tu non l'hai fatto scusa tu sei il primo che l'ha fatto tu sei il primo che l'ha fatto che cazzo vuoi cretino comunque no ulti e poi jacopo c'ha due kill no ulti luca si sulla d poverina e come sparare sulla croce rosa per me potete venire anche in due adesso io non vi temo vogliamo tra yardare? tra yardiamo facile ah quando sei già unita a mandare ad attaccare gli altri comunque no ulti e a me no ulti in una fila ispira io eh volevo dire eh volevo dire cosa cosa cosa? niente niente dove stai? nooo niente proprio jacopo te l'ho anche pingato che venivo eh c'era una bia volevo dire ho capito ma sono due ore che ti dico sto arrivando tu eri qui abbiamo una tattica di squadra di jacopo che è schifoso ma che cazzo me ne frega lo uccidavamo se c'erano anche tutti prendevo io i danni e tu facevi le kill ma lui ti uccideva ti sbatteva lui al muro cretino la tecnica era quella anche lui è stato codardo è rimasto indietro ma disturbami, disturbami, disturbami jacopo testa di cazzo ma ti stavo dicendo vorresti rimanere la parte del tuo ai cazzo tra le mani ma se tu venivi io prendevo i danni a torre e tu facevi la kill ma che vuol dire che mi vedevano? erano più sinergia loro due e c'è whatsapp, bastardo questi due jessi? ma che tutto non mi interrompo perchè puoi fare i compiti del college io gli ho scritto e non c'è eh vedi paolo c'è la cosa bella che ma ha rotto la linte diecimila volte quanto tipo io lo chiamo alle dieci di sera no no bro sto facendo i coi no non ne bemmo non ne bemmo su da un di 700 gol mi serviva e tu sei eh paolo non ridere tu è stato bellissimo perchè Non mi chiami mai, non è vero. Beh, quelle poche volte che ti chiamano. Beh, non guardo io, non lo so pure lui. No, no, mi è vietato a ridere, non vuoi... Oh, che stava, oh che stava sta cosa? Ah, non vale tutti i draghi, però. Volevo fare una build di Jaxx molto particolare. Eh, stavo già andando. Sì, no, no, no. Ho perso, abbiamo perso, Luce. Non avete perso. Vedi Ash. Che cazzino tanca di me. Eh. Se si avvicina, non la vivi più. Ma non possiamo sentire contro questi Bauch. Guarda che Jaxxapii è tanta roba. Jaxxapii? Lo usa Pieric, Jaxxapii. Esatto. Avete visto oggi Tyler Ward contro Yasuo? No, però ho visto il video in sovraimpressione, quindi credo che... Aperto. 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 Ma Yasuo fa schifo. Aperto. Aperto. Uno dei one trick pony più scassi. Aperto. 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 Brodo. Smatti buono scarris. Sì. 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 No. St era la mia squadra. Oh che vero Federico. Sì. E' la mia opponents. Ma guarda che è inutile che gli deva una scelta a un negro al mio compito Negro? No! Allora il segna bello! Dipende come sono le squadre Eh lui voleva fare! Jacopo, Luca, e poi chi altro volevi? Jacopo, Luca? Jacopo, Luca lo può avere Jacopo, Jacopo, Luca lo può avere Ero, ero tiltato! E' qui Andisi che mi pare! Era tiltato! Era tiltato! Ora gli è indifferente! Io ho detto che è! Io voglio... Alessandro ti attacca E tu non la fai che fare, Alessandro Beh dipende se c'è il pazzo di inverno Non è in d'aria Io ripeto, ero tiltato Va benissimo, ho giocato anche contro Indifferente, ero tiltato io Punto Comunque, come vediamo Appena finito sono i due Se volete giocare contro Giocate contro Non mi cambia, giuro Ok? Vivete stare... Vivete Sereni Anche se su 2v2 sta dura drop Ma ho cominciato a pushare i mid Che pensi sarebbe Avete fatto 1 bot e 1 top lo mid? Si ma... No, sono solo Luca In teoria era 1 bot e 1 top Ma Luca ha cominciato a tryhardare i mid Non ho cominciato a tryhardare niente Hai fatto vero Però è vero Già vabbè, Luca è una cosa a parte Tryhardare sempre, uccide sempre Ilenia Per essere anche la più scarsa Ilenia non c'era Cazzo, c'era C'era Jacopo Contro Federica No? E ha preso 2 kill E ha dato kick top E ha preso un'altra kill su Federica E allora io cosa dovevo fare? Esatto La berfennia è... Comunque contemplata Eh... Belle cose da fare Minchia, sei morto di freccione Oh, onestamente non pensavo in flash S.Gragas Quindi ho detto, boh, sto fermo tanto Se tanto mi da tanto sopravvivo E mi hanno tirato una sberla fotonica Eh vabbè, però Dai, uccidi tutti E' morto grazie Adesso mi apparece il bug E' morto grazie Adesso mi apparece il bug No, non so se non farei Drake Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, 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 si No Eh no Eh ma è anche il re Ed è allora in buff Eh allora Mi supporto Eh non posso fare niente Cangellata Succido Che mi faccio? Non andai eh? O altro Mio Dio Mio Dio quel coso Quanto rompi i coglioni quel cerchio Mio Dio quel coso Mio Dio quel coso Quanto rompi i coglioni quel cerchio Si, si, si Lei si Mi sforzano così Non è che ho molti Tipo tante Che mi possono coprire le spade Certo Ma vabbè Ci stanno Non è una cosa giusta Scusate Si, 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 si Ma devi morire Ma è una minchia Scusate Che schifo che fa Mi piacerebbe poterlo parlare con la squadra Ma la squadra è più grande Grazie 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 Poi con questi Ti ha fatto tanto Ma io sono sopra Ma dove cazzo stavo andato Tranquilo ci stanno io fratmo No Fratm Ehm a Gennaro No dai Fratm No 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 Allora già bro E' tanto Fratm Ok bro ve lo lascia allora No 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 Ti cancello dalla lista degli amici Fratm Ho stato detto proprio Con fratm e non con bro Mi chiami fratm? Qui manca un blu Oh l'ho perso Ma qui ma Eh? Cosa ha fatto il drago La tigna patta Ha detto di Non hai detto di non farlo Sì infatti Ma io non so perché l'ha fatto Ai 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 Cheating Vado a farmi il nasce Ma quando è venuto a me Sì E non potete contestarlo eh Ma poi scusa E' essere veramente vietato adesso Sennò abbiamo vinto a tavolino Vedi sia un blu canmar Lei si è fatto errada Scusate Ma erredo una cosa Il drago un'altra Che vuoi fare? Ma come vuoi not Vabbè Dove sia? Il treno merci No è il calciatore Capocannoniere Capocannoniere Capocannoniere? Hai ragione Lo so Bravissima Vieni Sì comunque Comunque abbiamo vinto a tavolino Perché abbiamo vinto a tavolino? Il drago Tu hai detto tu di non farli La tua compagna l'ha fatto al volo Ma poi l'avete massacrata Quella lì non sapeva dove andare Ma che l'abbia massacrata? E' 7-6? No No Ha 7 kill più di te? Che cazzo parli? Flavia Flavia Poi ci hai dato di vincere il drago Grazie di me per averci fatto vincere Era così semplice vincere così Ma non ce n'è uno in questa partita che abbia detto Vi ha fatto la dragtar Vuole andarsi a fare anche no no, non ce la faccio, ho fatto una fatica a mezzo fa meglianna oh perchè ti lo sai da tutti di arcane ti arrendi luca? ce la devi vinta a tavolino con le tue regole eh no, 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 le tue le tue regole pensa ladini si, vai sei latini, non scolta ma eri è molto più efficace, no, 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 adesso è molto grosso, è tanto settantale eh no, più che altro perchè il drago, voi vi da continuo il rosso il prossimo drago lo faremo no, noi adesso ci lasciate fare il nascere eh, dai allora voi avete voluto prendere il drago di subbiatto e noi ci prendiamo il nascere ma sto scegne, minchia, ma non so giocare proprio ognuno fa quello che può, voi intanto il nascere non riuscireste a farlo ma più che altro fai dare con bingo il ping e fare fastidissimo come vengono con le mani so anche le ward in giro vai fratma guarda, si sono fatti anche il blu sono proprio conosciuto, le troppo corte, cazzo, le troppo fortissimo cazzo, un assassino tipo uno v uno non c'è mai vado a farlo i due gemmi sono gli assassini ah beh, io non ho avuto cazzo, cioè ora a... anche bisogno di capo che mi scioglie l'acqua, 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 l'acqua... bravimi, tutti giambiornali tutti giambiornali ma col barretto appartai per chi vuoi che usi io dai, c'è perché di no dove si cominciano a votare il giambio eh salvo, non c'è quanto manca siamo al... come quattro siamo? undicesimo però siamo andato molto bene salvo, basta forcarmi ma non perchè tu hai fatto il drago, non perciò perché cosa ho fatto? facciamo quello salvo io ho capito che fausto e paolo quindi... 9913 dimmi un po' ok va bene perchè non facciamo la, non facciamo le personalizzate come faccio a non farmi sciogliere? 5v5 è impossibile ma forse non dite manco dei numeri pari anzi quando avete finito voi l'aram, ditelo che non lo sciamo ed è per quello che me ne dovrò mandare da questo ok mi fermerà no però eh ragazzi io le sto distraendo e siete morti tutti beh beh io ti ho dato un po' di danno più di questo non posso vaffanculo a cali se non merda ma dove sei? che mamma come? tappo che ridi tappo ragazzi vi faccio notare che da quando su altra ingresso stiamo andando molto bene stiamo tenendo il cazzo no no non l'hai detto che stiamo andando bene hai detto che stiamo andando molto bene io ho detto che c'è la tua ha detto che stiamo andando bene, non so se è andato al monto, non me lo ricordo, però hai detto che stiamo andando bene no perchè ho fatto il sigilo? ho bisogno di p a p ragazzi sono un cazzo di culo che c'hanno devi eliminare quelli squish i campion di merda devi eliminare abbiamo il nostro drago Jacopo si si io posso te lo vorrei ma tutto il team elimina me coli è nostra sappiatelo e non si può e non si può venire a rompere i coglioni eh Luca cos'è gente? perchè fammi con me? cos'è ladini che si può rubare di ulti? eh no ma ladini non può se lo fa abbiamo vinto a tavolino il loro team focus a me nello specifico ma suona con quella villa non si può guardare è una merda eh intanto sta vince ma io non la faccio mai con roi eh e i bastoni si squishy lei con roi meno squishy si si chiamano bastone ma avere più salute non vuol dire essere meno switch se uno builda la penetrazione non si deve arrivare con noi cono senza il roo no ho detto addio ragazzo porco zio ragazzi aiuto qua io ho tolto il roller io ho tolto il roller ci proviamo ormai ma noi abbiamo faiutato 20 giro non è una mia impressione non è una mia impressione mi ha lasciato scanna che mi ha la vita ma com'è che Morgana pusha più di una Vayne non ho ancora capito perchè vende pusha da schifo io non ho un champion da schifo ma neanche... ma neanche Morgana santo deo pusha di più una doppia muti elimina un minitara way ciao coglioni quella cazzo di zonio ti rallento guarda che sta arrivando oh sono morto ma cos'è questo? ma cos'è questo? ma ora ti faccio vedere che cos'è ma nooo non si fa quello bravo pusha pusha distruggi tutto adesso si si sta arrivando Luca adesso no non è Luca tutto si adesso mi farò la gunblade e poi farò il rabaddon ok quella te la farò e poi farò il rabaddon dopo il rabaddon c'era la doppia v più i minion mi hanno ucciso guarda io comunque non vorrei dire ma Jacopo trolla ma io attiro il focus della gente stiamo? 90 903 oh porca troia e raga oh c'è avancuna pulicini sto pulendo dappertutto tu ti dico vini con me vai dall'altra parte non mi ascolti ti intanto Luca gioca così gioca nel pacchettino mi uccide me poi viene a prendere anche te insieme all'altra ma tu però non hai ancora capita sta cosa vabbè dai lui si va da divertiti si uccide la Dini al fine di lui possa distruggere il loro carry cioè non è che in questo momento in questo momento stiamo un po' in faccia d'Asher ma chi si uccide la Dini? dobbiamo uccidere Luca e lui è quello che è un piccoglione Micheladini uccide Asher e Akali e ma Luca non mi ci posso avvicinare però se andiamo insieme quando io ti chiamo che lui è da solo tu non vieni è un po' complicato tu hai detto tu fai Akali io faccio Asher e io Akali e tu sei una persona in cinque e lo so farò è da matta andiamo subito vai 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 c'ho sgammato guarda me guarda me guarda me guarda me guarda me sono spottati guarda te guarda te che è io? ma porco abbiamo perso porco dio di nuovo carrucci avete messo troppo a decidere chi doveva andare su chi? io sono Akali tu devi andare su Akali perché tu sei un anti-mage io no oh oh quindi ti sono un anti-mage cazzo che va mamma aia aia beh porfoddio però vai metto il minimo il più possibile non posso più lo fare corri che cos'era quella R corri ok troppo di danno eh ma lascia run away run away run away ok ti ripudio quella vita eh no no ho fatto bene no l'avevo un secondo l'air ma dai ma pure è flashato stasera ma ma che ma che è ma ma è la vergogna delle sono ma vabbè ma che ma certi champion a certe persone non li dovrebbero fare proprio eccolo la quale c'è pape dico hm quale c'è pape dico tu dovresti fare solo island cari champion ma che cazzo tutti i kangri ma si metterà quicksil per questa scena non ti devi giambiando il cazzo oh no ah quella del merda che schifo aspettate devo 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 pulire l'epidio aspetta prato no aspetta prato prato ma dov'è ma si o no perchè l'è ma 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 ha stompato l'ulti sto deficiente oh ma lucio ma se usassi l'ulti non passano anzi no devo usare l'ulti subito così li cura tutti no 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 sto scezzando c'è sono main guard forse per un motivo so quando devo cercare oh eh vabbè eh vabbè vabbè ma quanto sento l'altare non lo uso mai ma siamo dicendo il mio oh ecco sapevo io arrivo arrivo di giù ok cosa fai la tua luce raga mi ha ultato suona però un ultimo della madonna però io mi butto mi butto in mezzo a tutti tieni lì tanto hanno ultato questi stronzi che se devo dire guarda quando vi tagli ho levato questi tre dai caro prima che live steal guarda quando li tanno guarda quando li tagli ho fatto con l'ulti vado 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 prima che sono li cura tutti giustamente li ha già curati li ha già curati tutti vado con quella W di merda guarda ragazzi al center li ha finiti di curare ragazzi sono full vita ragazzi hanno finito nooo è stato una buona idea nooo spero che non hanno tornato in stress c'è in teoria potevo annullarselo no flash no flash dini no flash dini no flash dini vai pushami dai è quello che stavo facendo si vuoi fare di lui vai su braaa a questo punto fattelo no tanto morto per morto ok credito un po' adesso sei dove fanno già di lì si qualcuno già sei via eh bravo non ci siete mai arrivati a cosa come c'è da arrivare appena appena sapeva di essere morto ci si buttava e basta vieni dietro va capra prevedibile cazzo paolo siamo soli siamo soli in un mondo di arrivo arrivo dove fu questa calia eh eh fratma abbiamo perso fratma no fratma non l'abbiamo perso eh fratma no fratma sono le cura troppo non abbiamo perso le cura troppo ecco l'inibitore è fatto dio cane che ci sta fatto che così oh vabbè ma non chiararli prime minion no vabbè 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 ma cosa se la cura sei pazzo ma cosa se la cura appunto perchè la cura devi andare sulla troia dio ca ecco eh sì io non l'ha capito no sona se muore non può più curare acido tu dici sona non è soraka non la cura non la cura in due secondi e non da di certo la cura che da soraka quindi prima devi eliminare acido non la cura caro non abbiamo ancora vinto non è vinto è vinto ma che è vinta arriva gran paroletto con molti li 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 ammaccatutti ha vinta guarda ma non è che ho detto io arriva lillo barilotto con molti li 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 ammaccatutti ma ho ucciso solo me veramente siete morti oh io vi ho consiglio eh Siete morti fuori Siete morti fuori Fai io come Karkus muoia Come Karkus muoia No, vittà dietro Diventa una ricerca Peggio, devi stare giunti Io luscio Ah, ma siete tutti morti Io sono solo 4-5 Ma sta minchia Spavola Ragazzi Guarda, mi sono vivo Ragazzi Abbiamo perso Eh, vabbè, pure il flash no Però Sì, vabbè, quella con la z... Ah, porco Dio Ah, che fatti tempo Oh No Ma asce Ma asce, dove minchia è che rimane sempre in vita Eh, è un po' Eh, per quello che dovessi fare te, Pratav Eh, per quello che dovessi fare te, Pratav Eh, per quello che dovessi fare te, Pratav Ti fa te, Pratav Eh, Pratav Io ho ultato C'è qualcuno che ha usato la z... Ah beh, non ti torna... Mi sforzo in un certo modo per finire Eh? Eh, eh, eh Pratav Pratav Pratav, te lo devo Eh, eh, eh 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 Magari per aiutarvi da qua lontano posso lanciare la notte per la canzone qua Ora, è lillo barilotto ha un ultime visco a tutti Nooo, l'ho bugato Beh, non vi fate prendere da lillo barilotto Ma come è la pucca la pucca Boh, io vado a lavorare invece Ma come è nato? Ma come è nato? Ma come è nato? Ma come è nato? Sì, ma perché vai a lavorare perché non si fa fare la qua 5x5 eh Beh, ma io sono tutto